Eccoci, eccoci. Buonasera a tutti, è la primissima diretta che faccio su Twitch. Cosa faccio stasera? Cerco in sei ore di produrre un brano da zero. Ma ho fatto un sondaggio, o meglio due sondaggi su Instagram, nei quali chiedevo fondamentalmente quale sarebbe stato il BPM del brano e quale sarebbe stata la tematica del testo, no? Primo sondaggio vince la risposta C, ovvero 120 BPM. Argomento del testo, questo è un problema, questa è la rottura di coglioni più grande. Protesta. Cosa vuol dire scrivere un brano in sei ore? È un casino, raga. Cioè, sei ore sono pochissime. Scrittura del testo, scrittura degli accordi principali del brano, il giro armonico, produzione, dell'arrangiamento. C'è tutta la parte del mix, c'è tutta la parte del master, quindi, raga, sei ore sono pochissime. Andiamo a ascoltare quanto sono 120 BPM. Partiamo magari mettendo una batteria. Quantizzo. Non facciamo i puristi che tanto in sti generi qua, ormai nel 2021, le batterie sono tutte campionate o triggerate. Proviamo a buttar giù un intro. Yeah! E abbiamo il groove del nostro intro. Peraltro sono nello studio della scuola Rockstar, studio fighissimo, venite a trovarci a me e Ale Ventura. Ci vuole uno special. Allora, ritornello qua, assolutamente. Allora, tre minuti spaccati, tre minuti. Raga, non fate robe lunghe. Che non se le caga nessuno, già non se le cagano quelle di due minuti e mezzo. Mi faccio una suonata, un giro per vedere cosa salta fuori. Mi piace, mi piace. Ok, ci sento un bassone pesantissimo sulla strofa, per cui prendo il basso. Bellissimo! Ciao! Raga, sei ore suon pochissime. Yeah! We got it! Madonna quanto è bello. Bello, bello, bello. Ecco, queste cose qua a me fanno impazzire. È bellissimo! Questo non posso usarlo. L'ho già usato in un mio pezzo. 1, 2, 3, 4. Io tanto dopo lo guantizzo. Mi sento. Sento che sono nella merda, non ho ancora scritto neanche una parola del testo. Che bello! Cazzo, mi piace. Mi piace. Doppiate, ste minchia di chitarre. Ok. Io non scrivo brani in italiano, sono imbranatissimo. Ho sempre scritto in inglese, ho provato a scrivere in italiano, ma faccio veramente schifo. Apprezzo un sacco chi lo fa bene. Faccio quest'ora, poi vado a casa a dormire perché sono cotto. E questo qua è la portafortuna che gli lasciamo qua. Grazie. Che bello! Now that I see that you are blind by the envy in front of your eyes. And if you wanna stay, I will go away. And if you wanna fight, I will stay alive. Bello! You will stay alive! Bene! Cazzo, mi piace. Mi piace, mi piace, soprattutto lo special. Allora, le voci le ho. Mancano solo 20 minuti. 20 minchia di minuti. Siamo agli scoccioli! Dai! Raga, eccoci. Sono stanco morto. Ragazzi, è stato un piacere. Come si fa? Come si fa a uscire dalla live? Termina streaming. Ciao!